E' prudente l'atteggiamento del governo italiano nei confronti di Mosca dopo le accuse prima britanniche e australiane, poi anche olandesi della Nato, contro il GRU russo che avrebbe attaccato alcune infrastrutture informatiche occidentali. Il sottosegretario della difesa, Angelo Tofalo, sull'attribuzione delle responsabilità frena. Da sottosegretario di Stato della difesa, con delega specifica alla cyber e anche da ingegnere appassionato da molti anni alla materia, ritengo che tutt'oggi, nonostante l'elevato progresso tecnologico, sia quasi impossibile dare un'attribution precisa da un punto di vista tecnico-ingegneristico. Per cui, quando si fanno queste affermazioni, spesso sarebbe opportuno, quasi sempre, necessario mettere poi nero su bianco le prove inconfutabili per l'attribution dell'attacco. Ad oggi, io ritengo che nessuno riesca ancora, attraverso la cyber, a dimostrare quando un attacco proviene direttamente da un ente, da un soggetto. Cosa invece diversa, io faccio da appassionato di intelligence, lo sottolineo sempre, si può fare con la U-Mint. Quindi, oggi l'attribution, anche in campo di guerra cibernetica, può essere fatta soltanto con l'appoggio della U-Mint, quindi con l'infiltrazione U-Mint, di una fonte umana, che può, con contatto diretto, avere prova di quello che è stato un attacco cibernetico. Ma, da un punto di vista informatico, da quello che mi risulta, poi se c'è qualcuno che può dire il contrario e come lo venga a spiegare, ritengo non sia ancora possibile definire il soggetto attaccante. Ecco, però questa accusa specifica viene dopo una serie di accuse che sono partite dal caso Skripal, anche prima, ma in particolare si sono rafforzate dopo il caso Skripal. Lei, al di là dell'appassionato, è anche rappresentante di un governo che è alleato nella Nato. Quindi d'Italia, per prima cosa, di fronte a che tipo di responsabilità si trova? Sì, oggi il dibattito, ecco, in ambito Nato, è quello di definire il quadro normativo da un punto di vista della minaccia cibernetica. Quindi, ad oggi, la minaccia cibernetica e l'attacco cibernetico non è ancora inquadrato, da un punto di vista normativo, come un attacco cinetico, per cui non può esserci una risposta cinetica. Anche se, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, abbiamo visto che la direzione della Nato è quella di perseguire con quadro normativo, tale per cui poi l'attacco cibernetico venga identificato come attacco, anche cinetico, e quindi la famosa invocazione dell'articolo 5. Il fatto è che oggi stesso gli Stati Uniti, nel vertice Nato, mettono a disposizione la loro macchina militare cibernetica nel caso in cui un paese alleato lo richiedesse. Non possiamo non ringraziare come gli alleati che costantemente ci mettono a disposizione le loro risorse, quindi a fin del bene. Io personalmente ritengo, e anche come governo italiano, che sia invece opportuno, soprattutto, sviluppare delle nostre tecnologie. Per non fare gli errori del passato, mi riferisco ad esempio agli F-35, che sono sicuramente un prodotto all'avanguardia di quinta generazione, ma dove l'Italia non è riuscita a entrare in quello che è la progettazione software, quindi magari ci troveremo domani indietro nello sviluppo e nella creazione di programmi di aerei di stessa generazione. Questo sulla cyber non va assolutamente fatto. Io sono uno dei promotori di una nascita, di un rafforzamento di quella che è l'industria europea della difesa. Nell'intervista Toffalo, oltre ad approfondire la posizione italiana in scenari delicati come Libia e Niger, ha anche approfondito il tema della futura Forza Armata di Cyber Difesa e preannunciato una seppur parziale riforma dei servizi. Ve ne presenteremo la versione integrale, mercoledì.